Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Wayward Wonders Nel scorso episodio abbiamo trovato la città Sperduta Beh, tanto sperduta non era in realtà Di Atlantis Però abbiamo paura Di cosa c'è qui Io non so se è lei Il boss, però ho paura di quello che mi potrebbe tirare addosso Tu malvagio figlio Di uno zombie Ancora Allora, io ho paura Che Ah no, è lei No, è la pentecaz Penti Pentilisea Io devo ammazzare Medea invece Io che cazzo ne so Io di che cazzo sono queste Dai, viece Viece, dai Faccio il culo a tutti, cazzo mene Dai Ecco, devo stare attento a quella, però Cioè, in teoria, devo avvicinarmi e allontanarmi Così lei lanciala La pozione Ma non riesce a farmi molto Ok, avete capito? Allora, aspetta Cioè, ci ho effettivamente ragionato a come ucciderla sta cagna E non è nemanco la cagna più grande Ecco, io specco le torce non realizzando che Mi ha velenato, mi ha velenato Ok, ora devo stare un attimo in disparte Quanto dura? Sei secondi Perché hanno imitato il veleno in Minecraft, madonna Ok Ok, ok, ok Posso fargli del danno Posso anche far così Ah, mi è mancato Vai, forse riesco a ucciderla Eh, ma se continui a curarti, però Sei proprio cagna Ma smetti di lanciarmi le cose addosso Non muore È morta È morta appena in Cilea Eh This cannot be How did you resist our potions? È morta? No, secondo me ce n'è un'altra C'è un'altra strega, sicuro Eccolo, infatti, Medea Ma sta Medea chi cazzo è poi? Non è che è Medusa, magari? Città di Atlantide? No, non dovrebbe essere qua Poi io dimetto le genere, non capisco un cazzo, però Vediamo un po' Giriamo un po' attorno Vediamo Tanto finché rimango su questo livello Teoricamente non dovrebbero Dare i problemi Là c'è la cista Però mi sa che devo prima uccidere Medea Per poterci andare Aspetta Criamo una specie di forte A protezione nostra Tipo così Ecco Allora c'è un creeper Che può venire qua sopra No! Non esplodere Che mi rovini tutta la copertura C'è anche della lava Qualcosa ho esploso dalla lava Qua ci sono dei blocchi vari Che è meglio non aprire Io ti dirò Sta Medea Ecco la Medea Ciao Medea Allora se io sto così distante E continuo a colpirti Ho detto continua a colpirti Forse riesco ad ucciderti senza troppi casini Vero Eh ma signor zombie Lei se ne deve andare a fanculo Ho finito le frecce Merda no ho finito le frecce No non puoi farmi sta roba qua Ho finito le frecce Ho finito le frecce Non ci credo Io non ci credo Ho finito le frecce Dovevo mangiarmi una pozione per forza Mi mangiare di queste pozioni Ed esco e gli faccio il culo Ed esco e gli faccio il culo Si può fare Si può fare Ok Ah Caglia bastarda Non mi buttare il veleno addosso Che poi mi butti l'altra pozione magica Mi fai un danno boia E lo speriamo tutte e due che poi muoio Stronza infame Sta nausea Eccola No no devo stare via assolutamente Questa riesce ad uccidermi anche a distanza Quanto dura sto il veleno suo Madonna 20.000 ore Ok la mancanza di frecce In realtà Mi ha un po' sballato i piani Però forse riesco a fare più Ma quella cagna davvero Sei un po' una cagna Sei un po' una cagna davvero Doppio veleno mi ha tirato Ti dico io ci provo Una Due Ci resisto Ci resisto zi Ci resisto ce la faccio Ce la faccio È morta È morta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Troppo forte surri Troppo forte Tenta la lava però Troppo forte Nasconditi un attimo Perfetto L'ho trovata E tu muori Ciao ragazzi Oddio quanta gente Ciao Tutto a posto Tutto a posto Ci vediamo domani Ci vediamo domani Ci vediamo domani Ci vediamo domani zio Uccido tutti Se avessi avuto Se avessi avuto tutto quel veleno Mi sarebbe stato ancora più facile Solo paura che qui dopo ci sia un bordello di gente Nessuna tanta gente No Neanche troppissima gente Perfetto Aspetta qua sotto dove si va Proviamo Ah no ok Dove ero prima Scherzavo Scherzavo Dove è che ho trovato il fast travel Però ora Se non vedo male È notte E quindi dovrebbe essere Leggermente più facile trovarlo Perché come vi ricordate È sempre Eccolo lì Eccolo lì Per forza quello Cioè mi piacerebbe tanto anche Set spawn to monument Set spawn to dislocation Addirittura Ok No Questa mi aiuta particolarmente Questo cartello Questo vuol dire Che Da questo punto si può arrivare ad altri tipi di spawn Ad altri tipi di cose Però ora mi manca un piccolo aiutino però zio Cioè se mi dai il teletrasporto per lo spawn Mi dai un aiuto Gigantissimo Giganterrimo anzi Allora aspetta Cerchiamo Una zona tanto illuminata Un bottone Eh da qua non si riesce a vedere Aspetta facciamo un pillarone Anzi un pillarino Ok Eccolo lì Perfetto Perfetto c'è Non mi ha tradito Perfetto Però il fatto che metta lo spawner qui Lo spawn qui Come vi dicevo Mi induce solo a pensare Che nelle vicinanze ci siano altri Posti interessanti Più che altro tanti altri posti interessanti Perché altrimenti non mi direbbe mettere lo spawn qua Capito che comunque è abbastanza lontano Perché in effetti è abbastanza lontano Ci ho messo un po' ad arrivare qua Però Boh Vabbè non mi lamento Aspetta Mori un po' Cagno bastardo Fammi dare un'occhiata Io sono sicuro che qui c'è per forza Una cesta Un qualcosa Proprio nessuno convinto Ma Ah eccolo il fabbro Vaffanculo Ci arrivo davanti Solo che era girato Mondain blade Più nove Mamma mia Questo devasta tutti Potion of the assassin Anche questa proprio Lascia stare E potion of diversion No questa la lascio qua Perfetto Siamo riusciti a trovare il fabbro Ci sta Ok possiamo tornare a casa Torniamo allo spawn No signor creeper Cosa vuole fare Non mi vuole esplodere Mica vicino al bottone Spero Eh se ne vado un po' Affanculo Ecco Ovviamente tutto buio Non si vede niente Oh ma roba Cicciccocota Ci vede su come Di là Indovinato? Indovinato? No Non ho indovinato per niente Di là Cazzo Se come la luce Tra l'altro Ho anche scoperto Che sulla pagina del forum C'è una mappa Che ti da lui C'è una mappa Che ti da lui E ti dice Guarda Usa questa per orientarti C'è proprio una bella Immaginona gigante Con una bella mappa Di tutte le cose Che si possono trovare Per tutte le cose Intendo tutti i blocchi avventura Ovviamente le lane Lui non te le dà Perché ha messo il Il villager Delle coordinate apposta Però È comunque una cosa buona Perché io posso orientarmi E dire Ma se in quella direzione Sono andato Verso la città di Atlantide Se giro a destra In questo punto Arrivo a Non lo so Il Grand Canyon di nuovo Così L'ho buttata lì Quindi è davvero utile Penso che la userò Per orientarmi Nei prossimi episodi Fatto sta Che c'è un modello di gente Con l'armatura E anche un creeper Ma io me ne vado qui E me ne frego altamente Ok City of Atlantis Molto bene Allora City of Atlantis Abbiamo fatto in totale 4 Su quanto 12 3 6 9 12 zone La città di Atlantis No Qua non c'è C'è anche la città Di Alessandria Si Lighthouse Vuol dire Il faro di Alessandria Comunque No Aspetta cos'è questo City of Atlantis Do cazzo sta C'è il Tempio di Artemisi Colossus of Roads Il Taimahal Stonehenge Grand Canyon Lost City of Atlantis Eccola qua Boom GG Bravo Surreal Bravo così Questo vuol dire che ci mancano 8 zone Da esplorare Che ci sta Ci sta Siamo quanto Ormai una decina di episodi Non male Non male L'unica cosa è che io voglio assolutamente Trovare una lana Perché mi sono visto qualche video online E le lane Ti danno di quei bonus Da paura Ti danno Ti danno delle armi Delle pozioni Delle armature Che davvero Dici Oh my god What the fuck is going on Una roba del genere Comunque Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Ci vediamo nel prossimo episodio Domani alle 7 Ciao Tutto Tutto Tutti Tutto 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 segue Ecco